Ciao a tutti ragazzi! Oggi in questo video vi faremo il room tour della nostra nuova casa a Sanremo! Iniziamo con la camera dei miei genitori! Stranno, perché è chiusa? Andiamo nella camera del mio fratello Matteo! Anche questa? Ehm, forse si è arrabbiato con me... Ehm, va bene! Andiamo nella stanza di Lucas! No, aspetta! Lucas! Ah, no! Ha solo tre mesi! Ehm... Allora andiamo nella mia stanza! No, aspetta! Chi ha chiuso la porta? Ragazzi, siete qui? Ho fatto uno scherzo! Oggi, prima il room tour della nostra casa, come vi ho detto prima, inizieremo con il salotto, cucina, insieme mangiare, insieme televisione e insieme bagno. Perché c'è anche un bagno su e giù. Allora, qui si mangia, qui sono io ovviamente, poi qui c'è mia nonna, qui Matteo, lì papà e lì mamma, vicino a Lucas. Poi qui abbiamo tipo il bar, mini bar, dove si possono mangiare dolcetti. Poi abbiamo, vedete, abbiamo qua il frigo, il freezer, poi una cosa altra sopra che non so cos'è. Poi qui abbiamo, non lo so, poi qui abbiamo un'altra, non lo so, un'altra scaffale dove si mettono così. Poi qui abbiamo piatti preziosi, non so di che cosa sono, vabbè, sono tutti piatti fatti di vetro, è ovvio che sono di, vabbè, poi abbiamo, poi qua abbiamo piatti, vabbè, normali, anche quelli sono normali, cioè anche questi sono normali, solo che sembrano tipo, più. Qui abbiamo bicchieri, mi sono dimenticata come si chiamano. E poi qui abbiamo piatti e bicchieri, altri bicchieri, tipo il 70% bicchieri e il 30% piatti. Vabbè, qui abbiamo la cosa che si cucina. Che ha la cattura? Sì, poi qui, ah no, vabbè, mi sono dimenticata. Qui abbiamo queste cosine, padelle. Poi qui abbiamo altre padelle, padelle, non so come si chiamano. Poi abbiamo qui delle spezie, che si chiamano in Ucraina, non so come, condimenti, condimenti. Abbiamo dei condimenti, qui, condimenti. Poi qui abbiamo dolciume, abbiamo zucchero, sale, cacao, fragoline. Fragoline? No, tipo una cosa per fare la panna. E poi abbiamo ciotole per fare, non so, per mettere l'insalata. Che la mangio ogni giorno. Anche voi mangiate l'insalata se volete stare bene e se volete togliere il veleno, perché abbiamo anche un po' di veleno dentro il corpo e invece l'insalata lo toglie. Vabbè, qua c'è il divanino, il divanino. E qui abbiamo, come avete visto prima, non so se avete visto, però abbiamo il tappeto fatto di mucca. Vabbè, non l'abbiamo fatto noi e l'abbiamo comprato. Sembra veramente mucca. Spero che non ci puzza tutta la casa di mucca. Andiamo al piano di sopra. Comunque qui c'è anche il bagno. Raga, non si apre. No, scherzo, è aperto. Allora, vabbè, vogliamo farvi vedere il bagno perché è sempre un po'. Però, vabbè, abbiamo anche la lavatrice qui. Ah, è vero. Se sente solo questo. Abbiamo la doccia che secondo me per me è più comoda ma ho paura a farmi la doccia giù. Andiamo al piano di sopra, abbiamo anche il nostro amichetto. Poi qui le scale belle, belle. In bagno, si può andare in bagno? Si può andare in bagno. Poi questo bagno è bellissimo. Qui io mi lavo i denti. Qui abbiamo cosine, tante cosine, anche parecchie. Cosine di mamma. Il 90% sono cosine di mamma. E allora, vabbè. No, vabbè. Dai, questo è il 10%, 80% cosine di mamma. Ok, adesso andiamo nella camera dei miei genitori. Qui abbiamo il suo lettino preferito che si muove da solo, guardate. Poi qui abbiamo anche un'altra giostrina. No, non è giostrina, non so cos'è. Tipo divertimento di Lucas. Poi qui abbiamo la vasca, che io me la voglio lavare oggi in questa vasca, ma non so se ce la faccio, perché non c'è acqua. E poi... Oh! Non l'hai tolto. E... E mamma mia, Armandia, non devi far vedere. E qua ci sono i tuoi calzi, portali via. Andiamo a portare le calze. In giro per il mondo. Calze. Ti hai messo i pantaloni e le magliette? Non possiamo fare vedere il camera di Matteo perché c'è insurrezza. Ciao ragazzi! Ciao! Adesso facciamo vedere la stanza di... Di... Di Teo! Di Teo! Allora, qui abbiamo tutto questo di Teo. Ok, in pace c'è quando la telecamera. Perché non si può guardare TikTok? No! Solo per i grandi. Poi qua abbiamo... Sì, sono per i grandi. Quando sarò grande posso guardare TikTok. Certo, quando sei grande sì. Ok, vabbè. Abbiamo qui le cose di Matteo. Ok. Lavoretti, pop-it, strade, pennarelli, altri lavoretti, lavoretti ancora. Armadio, vestiti, specchio. Poi abbiamo qua macchinine. Teo abbassa un po' il volume. Abbiamo il letto di Teo. Non andare perché ce l'hai sposto. E ultimissimo, andiamo in camera mia. Tun tun tun! Rolo di tamburi. Non so come si fa. Siete pronti a vedere la mia camera? No. E invece sì! Ta-da! Questa è camera mia, bellissima! Anche con il gattino. E anche con un altro gattino. L'ho fatto io. Ecco, vabbè, si incastra. E qua abbiamo specchio! Poi qui abbiamo la cosina che mi ha regalato Teo, che è bellissima, che è tipo per il telefono, ma non so come si fa a mettere. Però è molto carina. La uso anche come collare così. Poi abbiamo un pupazzo da 100 euro. Però il pelo è molto, molto, molto morbido. E ho imparato un trucchetto che se voi, per esempio, fate così e volete come prima i peli che avete trovato al negozio, fate identico come prima. Allora, è uguale a Bayer. Vabbè, Bayer è il nostro nuovo cagnolino, perché Bayer è il nome del cagnolino che ha dato mio nonno al suo cagnolino. Nonno al suo cagnolino che si chiama Bayer e quindi ho voluto chiamarlo Bayer per, diciamo, come si dice, ricordarmi di lui. Però questo è un leoncino, non è un cagnolino. Mmm, profuma di me, di me profuma. Ok, vabbè, presto. Ciao, ciao. Qua abbiamo... Gwenni, Gwenni. La mia studentessa. E poi qui abbiamo il nostro computerino che qui... Adesso disegno. Se lo volete vedere, andate sul mio TikTok. Comunque, chi non sa il TikTok, qui sotto, il nome. E poi, abbiamo la tastierina. E qui è dove gioco. Su Romblox. Vediamo se si... Ok, non devo fare così. Aspettate. Volete vedere... Ah, me... Aspettate. Volete vedere come si accende? Ok, vediamo. Vediamo. Una volta quando l'ho acceso mi sono presa un colpo. Allora, la password non me la posso fare vedere. Aspetta. Ci vediamo dopo quanto metto la password. Ok, caricato. Qui. Minecraft, Roblox. Cioè, no, Minecraft, Roblox. Mi sono dimenticata che faccio vedere il run toon della casa mia. Della mia casa. Ok, allora spegniamo tutto. Via, 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 via. Allora, qua faccio i compiti. E questa penina che ho comprato oggi... Troppo carina. E cioè, guardate come disegna. Ok, qua abbiamo la borsa per la spiaggia. Poi abbiamo qui il mio armadietto dove c'è questo bellissimo costumino. Guardate che bello. Guardate. Guardate che bello. Poi questi e poi super gattino, cool, super, 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 puper, gattino, piccino, carino. E poi qui abbiamo anche altre cose preziane. Qui e anche però qui. Guardate. Abbiamo questo di Moschino. Vabbè adesso non faccio la pubblicità delle mie cosine. Poi abbiamo questo che non so di chi marca è. Non mi ricordo proprio di chi marca è. Questo è di... Ok. Non so di chi marca è. Ehm... Della K. Però... Cioè, della K intendo del simbolo. Cioè, che si chiama K. E questa è la nostra casa a Sanremo. C'è anche il piano di sopra che una volta ce l'avevamo andati io e papà di notte. Vi ricordate quel video? Se sì, allora commentate giù nei commenti. Ovviamente se potete. Perché non so se potete. Se non ci... Cioè, se non... Se ci permettono di mettere i commenti. Perché alcune volte ce lo cancellano. Ma vabbè. Poi questa cameretta non possiamo far vedere perché è privato. È di mio papà. È l'ufficio di mio papà. E questa è la nostra casa a Sanremo. Se vi piace iscrivetevi, mettete like sotto questo video. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, aspettate. Se volete vedere altri miei video divertenti cliccate qui. E se volete vedere il mio video di ieri cliccate qui. E... Ciao! Adesso posso chiudere la telecamera. Ciao!